Cosa si fa durante la meditazione? Un bel niente, scherzo, non è propriamente così. C'è del vero, ma non è propriamente così. Comunque, benvenuti da Claudio Padovani di ComeMiditare.it Rispondiamo a questa domanda. Cosa si fa durante la meditazione? Allora, da un punto di vista del fare, si fa poco. Si fa, ma si fa poco. Lo scopo della meditazione è passare, e poi adesso ti sarà più chiaro, adesso magari un po' più sibillino, però introduco il concetto, poi dopo lo approfondiamo e ti sarà molto più chiaro. Cerchiamo di passare dalla modalità del fare, della mente occupata a fare, a dover fare, a dover progettare, a fare, 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 alla dimensione dell'essere, di stare. Di stare con cosa? Con quello che c'è, con quello che emerge. E quindi, diciamo, lo scopo è quello, in qualche modo, di fare in modo, quindi come vedi c'è del fare, di fare in modo che la mente si metta in stand-by. Una mente sempre così occupata, sempre così oberata, non si riposa mai, neanche durante il sonno riusciamo a riposare questa mente, perché i sogni, le cooperazioni continuano. Incessantemente, 24 ore su 24, il nostro scopo è quello di alleggerirla. Attenzione! Non di spegnerla, anche perché non ci riusciremmo. Di alleggerirla, anzi, sarebbe frustrante voler fare in modo che la mente non pensasse è vedere che non ci riesci. Quindi, non è questo, non è questo. Quindi, che cosa facciamo durante la meditazione? Per ottenere questo maggior rilassamento della mente, quello che facciamo è cercare di portare la nostra attenzione, invece di farci trascinare via dai pensieri compulsivi, le mille, quelle che tecnicamente chiamo pippe mentali, non volermene, è sempre un tecnicismo, quindi non ti dispiacere se uso questo tecnicismo, ma rende l'idea, pippe mentali, cioè questi pensieri compulsivi che entrono, che ci portano in mondi fantasiosi, che non esistono, tutte pippe mentali. Queste sono cose che ci fanno stancare, che ci stressano. E lo stress è fonte di tante malattie, di tante... ci abbassa le difese immunitarie, quindi è alla base di tutto. E viviamo in una società stressante, in un periodo stressante. Quindi alleggerire questa mente, mandarla un attimo in vacanza, può essere di grande aiuto. Allora, come fare? Usiamo comunque la mente e la portiamo a qualcosa che è nel qui e ora. Quindi cerchiamo, come dire, di non usarla più, in modo... di non farci più trascinare da essa, ma di usarla noi e metterla al servizio di quello che percepiamo nell'adesso. Normalmente, quindi ci agganciamo a qualcosa che sta nell'adesso. Quindi che cosa facciamo in meditazione? Puntiamo la nostra attenzione, ad esempio, al percepire il movimento del respiro, a esperire, a sperimentare, a essere presenti all'esperienza di respirare. Questo, quando nei momenti, negli istanti, in cui noi siamo effettivamente presenti e consapevoli dell'esperienza che stiamo vivendo mentre respiriamo, dà pace e alleggerisce la mente. Quindi, cosa facciamo? alleggeriamo la mente grazie all'attenzione che noi riportiamo al respiro. Quindi, cosa facciamo durante la meditazione? Osserviamo il respiro. Noteremo che lo osserviamo per un istante, più o meno lungo, e poi dopo, la mente, dopo un po', se ne riparte di nuovo col suo proliferare di pensieri. E allora, noi cosa facciamo? ce ne accorgiamo e senza volercene, anzi, il fatto che ce ne siamo accorti vuol dire che eravamo almeno in quel momento consapevoli che stavamo pensando, ben venga, riportiamo di nuovo l'attenzione al respiro. Quindi, gran parte del lavoro che noi faremo a livello di fare è proprio quello di riportare costantemente, con santa pazienza, la nostra attenzione all'esperienza di respirare. questo produrrà sempre più pace, sempre più tranquillità, non sia durante la meditazione che fuori, però, attenzione, non avere troppe aspettative, perché di nuovo le aspettative sono parte della mente, stai anche con la frustrazione di un apparente non riuscirci, la meditazione riuscirà comunque. non si tratta di riuscire, quindi, abbandona un po' l'idea di dover fare e ottenere un risultato. Il risultato non lo vedi durante la meditazione, il risultato lo vedi nella vita di tutti i giorni. Poi, ci sono anche delle meditazioni in cui ti sembrerà di aver ottenuto chissà quale risultato perché sarei stato in uno stato di pace meravigliosa, in uno stato di assorbimento totale. Ma non durerà. Non ti voglio illudere, non ti voglio dare delle false aspettative, appunto, perché di nuovo se no tu entri nella dimensione del fare, fare, fare per ottenere qualcosa. In meditazione ti accennavo non facciamo questo, cerchiamo di stare con quello che c'è e cerchiamo di essere, di spostarci dalla dimensione del fare, grazie al fatto che cosa facciamo? Portiamo l'attenzione al respiro per dimorare nello stato di quello che c'è nell'adesso. Sentiamo che stiamo respirando. Poi, non entro in altre meditazioni come la Vipassana, si fa anche altro, però, in qualche modo il lavoro di base rimane questo, anche in Vipassana, anche in Mindfulness rimane questo, quello relativa al fare. che cosa vuol dire essere? Se io sono presente al mio respirare, se io sono presente al... se io colgo l'attimo fuggente, se io sono presente a quello che c'è nel momento presente, e non me ne vado nel mondo delle fantasie su quello che sta per succedere, quello che è successo, che è quello che normalmente fa la mente prolifera, le cosiddette pippe mentali, ma sto con quello che c'è, trovo la pace. Ma cosa significa stare con quello che c'è? Significa smettere di dar retta a tutte le cose da fare, da non fare, progetti, aspettative, le aspettative sono legate al passato, i progetti sono legati al futuro, le due cose poi passano dal passato al futuro, faccio progetti basandomi sul passato, su schemi del passato, tutto, tutte fantasie, tutto, l'unico momento in cui viviamo è questo, e non, spesso non siamo presenti a noi stessi mentre stiamo vivendo qualcosa, immagina che stai mangiando un mandarino, quante volte stiamo presenti all'esperienza di mangiare un mandarino? Per essere presenti c'è bisogno di essere, essere presenti, essere, quindi io sono, sperimento, il fatto di essere qui e ora, nell'adesso. Questo è il vero lavoro che facciamo in meditazione. Cosa facciamo in meditazione? Smettiamo in qualche modo di fare e ci alleniamo a sviluppare la dimensione di essere. Quindi è strano, no? Perché in meditazione qualcosa facciamo per fare, per smettere di fare, qualcosa la facciamo, portiamo l'attenzione al respiro, ma lo scopo vero, finale, non è quello di esserci riusciti perché sarà frustrante, perché vedrai che la mente appunto divaga facilmente, ma è quella di essere, essere presenti anche al fatto che la mente divaga. E quindi va bene, la mediazione riesce comunque, anche se ti accorgi che non riesci a essere presente continuamente sul respiro, è normale, è difficile, il vero lavoro è quello di continuare pazientemente a riportarti nella dimensione dell'essere. In questo modo alleggerisci la mente che altrimenti rimane fissa nelle lucubrazioni mentali senza alleggerirla mai e in qualche modo ritrovi la pace, ritrovi, ti alleni anche a creare sempre più spazio tra te e la compulsione emotiva e la compulsione dei pensieri e a muoverti di pancia o di testa e ritrovi in qualche modo la possibilità di essere presenti a te stesso, di goderti il momento presente della vita e sempre più momenti di bellezza della vita, di godimento del presente accadranno a te anche nel quotidiano, quindi non solo quando starai meditando, lì troverai i veri benefici. Quindi troverai che ti scoprirai che ecco il mandarino mentre lo mangi avrà più sapore perché ti stai allenando, stai allenando la mente a ritrovare questa dimensione di presenza, di essere nell'adesso, nell'esperienza che stai facendo e quindi il mandarino avrà più gusto. Andrai per strada e vedrai la bellezza della natura, gli alberi. Quello che succede di fatto è che in qualche modo usciti anche dal guscio, dalla corazza che questo stress, questo continuare a proliferare dei pensieri ci produce e quindi una corazza che ci fa chiudere le ansie, le paure, la rabbia, ci chiudono in qualche modo grazie alla presenza queste corazze si alleggeriscono, alleggeriamo la mente e alleggeriamo anche queste corazze e il cuore si apre e quindi una cosa che mi viene detta più di una volta mi è stato detto ho guardato gli alberi e sai Claudio le foglie erano verdi e me lo dicono con una bellezza per cui erano verdi anche prima le foglie e lo sapevano erano verdi non è che non lo sapessero ma detto così mi fa capire che c'è una profonda connessione con l'esperienza di vedere le foglie di esserci in questo mondo perché altrimenti attraversiamo una strada assorbita dai pensieri finiamo all'ultimo dei giorni della nostra vita perché ci sarà anche un ultimo dei giorni della nostra vita in cui ci rendiamo conto che non abbiamo vissuto la nostra vita quante volte la rimandiamo la nostra gioia la nostra felicità la nostra pace a quando avremmo risolto questo problema quando avremmo risolto quest'altro quando è che invece cominciamo a dire ok facciamo un lavoro contrario cominciamo a trovare la pace e poi magari avremo una mente tranquilla da poter affrontare i problemi che comunque la vita generosamente offre però a cuor sereno avremo anche più strumenti perché essendo alleggeriti da tutto questo bagaglio di fantasie di pippe mentali avremo molta più energia per e anche una mente molto più chiara per far fronte a quello che la vita ci pone dinanzi quindi ricapitolando cosa fare in meditazione cosa fare? riporto l'attenzione a qualcosa del presente qualche cosa che mi fa spostare dalla dimensione del fare alla dimensione dell'essere quindi cosa faccio? mi porto semplicemente al respiro lo faccio tante volte cerco di non giudicarmi perché i giudizi appartengono al passato cerco di non avere aspettative perché le aspettative appartengono al passato posso notare che ho voglia di smettere di meditare perché mi sembra di perdere tempo fa parte delle distrazioni fa parte del bagaglio di pippe mentali osservo la frustrazione osservo tutto questo ma se riesco a attraversare anche tutte queste esperienze che si affacciano e che sono naturali e so che sono pensieri sono di nuovo pensare che sto perdendo tempo è un pensiero è uno dei tanti pensieri a cui tendiamo a finire di dar retta tutto questo proliferare no? tutte queste pippe è una pippa mentale pensare di non riuscire a meditare pensare di voler smettere di perdere tempo di non riuscire a fare questa proliferare del fare 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 ci farebbe anche smettere di meditare quindi se invece accettiamo che c'è questa mente che ci dice che dobbiamo fare che dobbiamo fare che dobbiamo fare e quello che facciamo è non dargli troppo retta non cacciare via questi pensieri fanno parte di noi non si tratta di non dargli retta buttandoli la porta contro no si tratta di aprire la porta guardare che ci hai questo pensiero che ci fa distrarre e che si affaccia guardarlo negli occhi per quello che è ma non dargli retta non alimentarlo non dire vabbè ma sei solo un pensiero io adesso ho deciso che per dieci minuti merito e quindi io per dieci minuti cerco la dimensione di all'essere e quindi quella del fare non mi serve più di tanto mi serve solo per salutarti pensiero chiudere la porta e ritornare e portare la mia attenzione a sperimentare il respiro spero di aver reso con la consueta chiarezza anche dei concetti che potrebbero sembrare difficili ma riportandolo all'esperienza pratica materiale dovrebbe esserti molto più chiaro che cosa fare in meditazione da un punto di vista torni il respiro dall'altra abbandoni ogni senso di dover fare o almeno cerchi più che di abbandonare di alleggerirti nella misura in cui ti riesce quindi senza affannarti più di tanto ma rimanendo presenti al fatto che ti stai distraendo e riportandoti all'adesso se inseguendo il respiro ecco che avrai sempre meno momenti di fare e sempre più momenti in cui dimori nell'essere nello stare nel momento presente non sarà una costante anzi più raffini la tua attenzione nell'essere e più ti accorgi di pensieri più sottili che emergono e quindi potrebbe essere anche frustrante ma tu accogli anche queste frustrazioni accogli tutto e quindi quello che si sviloperà comunque sarà una maggiore leggerezza nella vita una maggiore leggerezza durante la meditazione anche rispetto a tutti gli elementi distraenti che continueranno a sorgere e questo ti darà molta più pace e molta più possibilità di attraversare la vita con più leggerezza nel cuore e di godertela di più e di goderti ogni istante della tua vita ecco quindi cosa fare in meditazione se ti è piaciuto il video lascia un bel like iscriviti al canale se non l'hai ancora già fatto e se vuoi una meditazione gratuita e non l'hai ancora scaricata la trovi qua non mi resta altro che salutarti che tu sia felice e che tutti gli esseri siano felici grazie a tutti